8 MARZO UN PICCOLO GESTO Supita è dolcemente la fanciulla. Cavalier prepara dolcemente i fior che prontamente saranno donate al risveglio e non per nulla. Bocciolo è assai delicato come il cuor delle dame vicino all'orfesta. Sian prontate trombe e vessilli e giuste gesta. Uomini che con ardore e gaiezza avvicinate le vostre amanti. Imparate le buone maniere, le cialtronerie tenetele molto distanti. Fanciulle pronti ad aprire i vostri cuor, non siate ciane. Ogni buon gesto sia graziato come le virtù di nostro Signor. Mai sia pronta l'ignobile mano alzata verso la delicata creatura. Ognun faccia mente locale, altrimenti arriverà più di una seccatura. Bisogna ricordarsi, nell'arco dei giorni, da aver verso la propria compagna un piccolo gesto, ma significativo di tenerezza. Ci saranno momenti di attrito, ciò non deve essere di intralcio alla saggezza. Or lasciatevi dalla primavera e dal profumo dei fiori non dar, dall'energia dell'amor rapinar.